Chi sono oggi i leader? Leader è un termine anche un po' abusato in realtà. Opinion leader, leader di mercato, e quella qualità, la leadership, che è sempre più scarsa all'interno dei gruppi di lavoro, delle aziende, delle organizzazioni. In realtà i veri leader sono in mezzo a noi, probabilmente non li conosciamo. E il leader della porta accanto, quello che lavora in banca, il professionista, o anche il giovane che ha deciso per gioco di aprire una sua start-up e di fare innovazione in un determinato mercato, e oggi sta scalando quel mercato, facendo tremare forse anche le grandi aziende. Proviamo a disegnare uno scenario. Come sarà il mondo nel 2040? Prima di immaginare come potrebbe essere il mondo tra 20 o 30 anni, vorrei provare a immaginare come è oggi e quindi a cosa dobbiamo iniziare a migliorare per far sì di avere in futuro meno paura e più utilità da quello che è il progresso. Per esempio penso ai nostri soldi, quello che ci attende, se esisteranno, sopravviveranno le banche o se verranno annientate dall'innovazione finanziaria, dai bitcoin, o anche quali possono essere gli strumenti a nostra difesa, visto che ogni giorno con i nostri dispositivi produciamo un'enorme mole di dati, che però non sono nostri e vengono gestiti dai giganti del digitale. Dacci tre consigli per sopravvivere nel mondo dell'euro. Io consigli non ne posso dare, non ne voglio dare, in realtà ne abbiamo racconti tantissimi dai protagonisti che abbiamo intervistato. Vi scopriremo insieme. Leader.